bello tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono sempre in mezzo a baffondi spero che si senta l'audio vabbè è difficile no? apriamo qua ok come al solito sono andato da mia nonna e niente spero che si senta l'audio perchè ho spostato il microfono me la sono messa proprio in bocca perchè non si sente mai l'audio e quindi niente non si sente e smetto di fare il video no vabbè 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 e niente vabbè 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti